si parte ah che bello che giornata ragazzi oggi primavera piena giornata spettacolare e noi ce ne andiamo a fare un bel giretto in bicicletta perché come dice il buon giova notti giovanotti Lorenzo Cherubini una pedalata alla volta ragazzi una pedalata alla volta e conquisteremo il mondo o meglio gireremo il mondo ciao amico ciao amico buongiorno 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.